Ciao a tutti e benvenuti su Ticino Track & Bike, il canale YouTube che vi accompagna a piedi bicicletta alla scoperta della Valle del Ticino. Oggi siamo al Molino Vecchio di Bellinzago, punto di partenza e arrivo di un itinerario che ci porterà alla scoperta del Bosco del Ticinetto. Il Ticinetto è un ramo del Ticino formatosi durante la grande alluvione storica del 1868. Oggi il Bosco è gestito dall'associazione Amici del Ticino che si occupa di contenere la crescita delle piante invasive e di favorire invece le piante autoctone. Tra l'altro per gli appassionati di botanica la zona è ricca di specie endemiche della Valle del Ticino che comunque è difficile trovare altrove. Abbiamo girato queste immagini a gennaio comunque quando ovviamente il ciclo vegetativo delle piante è a riposo ma io consiglio sempre una volta che imparate un itinerario di ripeterlo più volte nel corso di diversi momenti dell'anno proprio per vedere come cambia il paesaggio con il variare del ciclo vegetativo della natura. L'itinerario è abbastanza breve e lungo più o meno 4 chilometri poi lo vedremo nel dettaglio ma come spesso accade nella Valle del Ticino anche con brevi percorsi riusciamo ad attraversare ambienti molto differenti. Inizialmente vedremo una parte prativa poi entreremo in un bosco un bellissimo carpinetto che è considerato uno dei più bei boschi di carpini della Valle del Ticino e poi attraverseremo la roggia del Kang di cui vi racconterò quando ci troveremo nel suo letto attraverseremo il Ticinetto e poi ci ritroveremo in un ambiente di dosso ovvero un ambiente sopraelevato creato dall'accumulo di detriti fluviali. È un percorso breve ma impegnativo perché in alcuni punti il sentiero è abbastanza tortuoso e poi ci sono diversi guadi da superare. Li vedremo poi approfonditamente direi che possiamo cominciare a pedalare quindi pronti cartina e via. Cominciamo subito a capire dove siamo. Questo è il mulino vecchio? Questa è la strada che porta Bellinzago inserendosi nella via Ticino. Questa è l'area parcheggio da cui partiamo e cominciamo a percorrere la strada che passa accanto al mulino lo vedete sulla sinistra e dopo pochi metri svoltiamo a destra. Ecco vediamo la svolta. Il sentiero attraversa inizialmente dei prati e poi si inoltra nel bosco. Anche d'inverno i carpini con i loro tronchi caratteristici donano un tocco particolare all'ambiente. Una brusca discesa ci porta a guadare la roggia del Kang. Eccoci troviamo nel letto della roggia del Kang, un canale irriguo che oggi non è più attivo ma ad esempio agli inizi del novecento era utilizzato per la macerazione della canapa. Tra l'altro il suo nome, roggia del Kang, deriva appunto dal nome dialettale delle canne che servivano appunto per la macerazione della canapa. Siamo arrivati qui. Il guado è quasi sempre asciutto. Seguiamo il sentiero fino al guado del Ticinetto, anche quello oramai quasi sempre asciutto tranne nei momenti di piena del fiume Ticino. Ecco il letto del Ticinetto. Continuiamo a seguire il single trek che attraversa il bosco alluvionale e l'ambiente di dosso. Ad un certo punto il sentiero piega verso destra e si comincia a seguire la sponda del fiume. Eccoci quindi lungo il Ticino. Non possiamo sbagliare, bisogna sempre seguire il sentiero fino al guado della lanca del Ticinetto. Qui è molto facile trovare acqua. Passato il guado una brusca salitella ci porta sul sentiero che costeggia la cascina Provasin dove troviamo un'altra area posteggio. Proseguiamo sempre diritto fino a raggiungere un video dove svoltiamo a destra sull'ampia ciclabile che ci riporta al mulino vecchio. Ecco che abbiamo passato il guado, attraversato l'area posteggio e svoltato a destra lungo il sentiero conosciuto come dorsale Cerano Castelletto oppure via Ticino. Lo proseguiamo fino a raggiungere di nuovo il mulino vecchio di Bellinzago. Come vedete il ritorno è molto più agevole. L'itinerario è lungo più o meno 4 chilometri ed è ideale quindi per una bella passeggiata. Per gli amanti della mountain bike è una bella variante con un single track molto divertente da inserire all'interno di un itinerario più lungo. Non fate questo percorso nei periodi di piena del fiume. Se volete approfondire la storia sul mulino vecchio di Bellinzago potete guardare un video che trovate qui su Ticino Track & Bike. Siamo quindi rientrati nell'area posteggio del mulino vecchio di Bellinzago. Abbiamo concluso il nostro giro. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito nel corso di questo itinerario. Iscrivetevi al nostro canale se vi piace seguirci alla scoperta della Vare del Ticino. Seguiteci anche su Facebook. Un cordiale saluto a tutti da Claudio di Ticino Track & Bike.